Un saluto a tutti quanti, sono Oliver, ed oggi andiamo a parlare della teoria dell'evoluzione. Secondo la visione del mondo materialista, atea, enichilista, promossa dalla NASA, dal sistema di educazione e dai media di comunicazione, l'universo apparì dal nulla senza alcun motivo, 14 miliardi di anni fa, conosciuto col nome del Big Bang, la grande esplosione. Durante questi miliardi di anni, tutta questa materia che sorse dal nulla, prese la forma di pianeti e di stelle che, secondo la scienza moderna, sono gigantesche sfere che viaggiano a milioni di chilometri orari nello spazio infinito. Poi, in uno di questi pianeti, chiamato Terra, apparì dal nulla e senza alcun motivo la prima forma di vita formatasi da materia inerte. Questa primordiale forma di vita unicellulare si evolse nel giro di milioni di anni fino a convertirsi in un essere umano consapevole. Tuttavia, come succede con la teoria heliocentrica e la teoria del Big Bang, vedremo che anche la teoria dell'evoluzione si basa su fantasie e supposizioni che non sono ancora state provate dal metodo scientifico. La teoria dell'evoluzione ebbe inizio nel 1859 col libro L'origine della specie, di Charles Darwin. Secondo la definizione ufficiale, l'evoluzione biologica è un cambio del patrimonio genetico, fenotipico, genotipico della popolazione biologica attraverso le generazioni. La quale ha originato la diversità delle forme di vita che esistono sulla Terra a partire da un antenato comune. Tutta la vita sulla Terra, pertanto, deriva da un antenato comune, universale, esistito all'incirca 3.500 milioni di anni fa. L'idea che ha posto Darwin è che gli individui che si sono adattati nei loro abitati nel modo migliore hanno passato questa qualità alle generazioni successive. Questa qualità di benefici si sono accumulati nel tempo, trasformando l'individuo in una specie totalmente differente rispetto ai suoi antenati. Secondo Darwin, l'uomo sarebbe la conseguenza più sviluppata di questo meccanismo immaginario che chiamò evoluzione attraverso la selezione naturale. Credeva di aver incontrato l'origine della specie e l'origine di questa specie era un'altra specie. Nonostante lo stesso Darwin fosse cosciente delle difficoltà che presentava la sua teoria, la pubblicò in un capitolo del suo libro col nome di difficoltà della teoria. E queste difficoltà consistevano principalmente nei reperti fossili, nella complessità degli organi degli esseri vivi e nel suo istinto. Haron Nghaya ha scritto Non serve dire che all'epoca di Darwin la vita è stata studiata con una tecnologia molto primitiva ed inadeguata. Campi della scienza come la genetica o la biochimica esistevano se non come concetti, tanto che le sue teorie dipendevano completamente dalle sue capacità di immaginazione. La scoperta degli anni 50 della struttura DNA portarono un duro colpo alla teoria dell'evoluzione, perché si comprese l'estrema complessità che stava dietro a qualsiasi forma di vita. Prima di queste scoperte la comunità scientifica ufficiale, che difendeva l'idea di Darwin, uscì con spiegazioni alternative col proposito di mantenere viva la teoria dell'evoluzione. Una di queste spiegazioni era la presunta esistenza di mutazioni aleatorie che produrrebbero l'evoluzione della specie. Nei decenni successivi, dalla scoperta della molecola del DNA, il neo-darwinismo tentò di mostrare, con alcuni esperimenti falliti, che potevano esistere mutazioni benefiche nei geni degli esseri viventi. Sebbene era già stato comprovato che tutte le mutazioni dei geni degli esseri viventi sono dannose, il biologo Bekes Pranganazza scrisse La mutazione non porta alcuna informazione nuova al DNA. Come conseguenza delle mutazioni, le particolarità che formano le informazioni genetiche sono strappate dal loro posto se non distrutte o spostate in un altro luogo. Le mutazioni non permettono ad un essere vivente di acquisire un nuovo organo o trapianto. Causano solo anormalità, come una gamba al posto di una spalla o di un orecchio al posto dell'addome. Tutti gli sforzi per generare una mutazione benefica sono falliti. Per decenni gli evoluzionisti hanno fatto vari esperimenti per produrre mutazioni nelle mosche della frutta, visto che questi insetti producono una nuova generazione ogni 11 giorni, e pertanto le mutazioni si vedrebbero rapidamente. Generazione dopo generazione di questa mosca della frutta hanno portato a delle mutazioni, ma non fu osservata alcuna mutazione benefica. Il genetista evolutivo Gordon Taylor ha scritto È un fatto sorprendente che nessuno ha mai menzionato che tutti i genetisti di tutto il mondo stanno allevando mosche della frutta da più di 60 anni nei laboratori e non hanno mai visto una nuova specie, nemmeno un nuovo enzima. Harun Yahya scrisse Fintanto esiste la microevoluzione, è come dire che piccole mutazioni ed adattamenti all'interno di una stessa specie, che non si sono mai visti nel mondo reale, è una macroevoluzione. Come dire che la presunta trasformazione di una specie è un'opera completamente distinta. Nemmeno i reperti fossili mostrano che sia mai successa questa macroevoluzione in nessun momento della storia. Colin Patterson, paleontologo del Museo Inglese di Storia Naturale di Londra, ha detto Nulla ha mai prodotto una specie con i meccanismi della selezione naturale, e nessuno si è mai avvicinato a farlo. La maggiore controversia del darwinismo è su questo problema. Secondo la teoria dell'evoluzione, ogni specie è sorta dalla precedente. Una specie esistita precedentemente nel tempo si è convertita in un'altra, e da qui sorsero tutte le altre specie. Secondo questa teoria, questa trasformazione graduale dura da milioni di anni. Se questo fosse il caso, allora innumerevoli specie intermedie avrebbero vissuto durante l'immenso periodo di tempo, che si suppone fosse necessario per queste trasformazioni. Per esempio, sarebbero esistite specie di mezzi pesci, mezzi rettili, che avrebbero acquisito caratteristiche dei rettili, oltre alle caratteristiche dei pesci che già possedevano. Dovrebbero essere esistite specie di mezzi rettili, mezzi uccelli, che avrebbero acquisito caratteristiche avicole, oltre alle caratteristiche dei rettili che già possedevano. Gli evoluzionisti chiamano queste creature immaginarie specie intermedie. Se veramente sono esistiti questi animali, dovrebbero esserci stati miliardi o milioni di essi, e la cosa importante è che i resti di questi animali sarebbero presenti nei reperti fossili. E lo stesso Darwin era cosciente dell'assenza di queste specie intermedie, e la sua speranza era che si potessero trovare in futuro. Il famoso paleontologo inglese Derek Hager ha detto se si esaminano a fondo i reperti fossili non si trova alcuna evidenza dell'evoluzione naturale, solo alla rapida esplosione di una nuova specie a scapito di un'altra. Il paleontologo evoluzionista Mark Tanerky commentò quanto segue Uno dei grandi problemi con la teoria dell'evoluzione sono i resti fossili. Questi rettili non hanno mai mostrato segnali delle ipotetiche specie intermedie di Darwin. Al loro posto le specie appaiono e scompaiono all'improvviso, e questa normalità ha alimentato l'argomento creazionista dove ogni specie è stata creata da Dio. Harun Yahya ha scritto Gli evoluzionisti credono che gli invertebrati marini si sono evoluti milioni di anni prima di convertirsi in pesci. Senza dubbio non esiste alcuna evidenza, né reperto fossile, che dimostri l'evoluzione fra questi invertebrati e di pesci. Gli invertebrati e di pesci hanno enormi differenze strutturali. Gli invertebrati hanno tessuti duri all'esterno dei loro corpi, mentre i pesci, che sono vertebrati, lo tengono all'interno dei loro corpi. Un'evoluzione così enorme dovrebbe aver lasciato miliardi di passaggi prima di completarsi, si dovrebbero avere miliardi di specie intermedie che mostrano questi passaggi. Gli evoluzionisti hanno cercato nei resti fossili durante gli ultimi 150 anni per vedere se trovavano queste specie intermedie. Hanno trovato milioni di fossili di pesci, di invertebrati, ma separatamente, però non hanno mai trovato alcun fossile di qualche specie intermedia. Il contesto, che vede la teoria dell'evoluzione, va molto oltre, affermando che i pesci si siano evoluti dagli invertebrati trasformandosi in anfibi. Però anche qui non c'è un solo fossile per verificare l'esistenza di, in qualche momento del passato, di qualche creatura mezzo pesce o mezzo anfibio. Harun Yai ha scritto È ovvio che un pesce non può sopravvivere fuori dall'acqua più di due minuti. Se assumiamo che abbiamo avuto una siccità, come affermano gli evoluzionisti, per qualche ragione i pesci si videro a dover strisciare sulla terra. Che succederebbe a questi pesci se questo processo durasse milioni di anni? La risposta è semplice. I pesci che abbandonassero l'acqua morirebbero in poco tempo, anche se questo processo durasse milioni di anni. E la risposta sarebbe la stessa. Tutti i pesci morirebbero, uno dopo l'altro, e nessuno direbbe, forse nel giro di qualche milione di anni qualche pesce svilupperebbe polmoni nel tentativo di sopravvivere? Questa affermazione sarebbe senza senso ed illogica. Senza dubbio questo è quello che affermano gli evoluzionisti. L'evoluzione afferma che la vita ebbe origine e si sviluppò nel mare, poi si trasferì sulla terra attraverso gli anfibi. Questa teoria afferma inoltre che gli anfibi si sono evoluti in rettidi, creature che vivono solo sulla terra. Questo scenario ancora una volta è impossibile, proprio per la grande differenza strutturale fra le due classi di animali. Ad esempio, l'uovo dell'anfibio è stato creato per svilupparsi nell'acqua, mentre le uova ammiotiche sono state create per svilupparsi sulla terra. Non esiste alcuna evidenza nei reparti fossili di nessuna esistenza di specie intermedie che metta in relazione gli anfibi con i rettili. Il paleontologo Robert Carroll ha ammesso quanto segue. I primi rettili erano molto differenti dagli anfibi, e gli anfibi dei loro antenati comuni non si è riuscì a trovarli. L'immaginazione degli evoluzionisti non si ferma qui, perché affermano che in seguito i rettili svilupparono le ali e si evolsero. I uccelli, le ali, che sono eccezionali caratteristiche degli uccelli, presentano un grande problema per gli evoluzionisti. L'evoluzionista turco, Engin Korur, confermò quanto segue. La caratteristica comune degli occhi e delle ali è che possono funzionare solo se sono completamente sviluppati. In altre parole, un occhio sviluppato per metà non riesce a vedere. Un uccello con un'ala sviluppata a metà non può volare. Come si siano formati questi organi, è un mistero della natura che bisogna spiegare. Arun Yaya ha scritto, Non esiste alcun metodo in grado di spiegare come le braccia frontali di un rettile abbiano potuto trasformarsi perfettamente funzionali come risultato di una distorsione genetica o di una mutazione. Inoltre, le ali non sono sufficienti affinché un organismo terrestre possa volare. Esistono altri meccanismi strutturali che permettono agli uccelli di volare. Ad esempio, le uova degli uccelli sono più leggeri delle uova degli animali terrestri. I loro polmoni funzionano in maniera molto differente. Hanno un sistema muscolare scheletrico molto diverso di un sistema di circolazione ben specializzato. Queste caratteristiche sono necessarie come le ali per poter volare e dovevano esistere tutte allo stesso momento. Non potevano apparire gradualmente con forme cumulative. Per concludere questa teoria evolutiva si sostiene che i rettili in seguito si sono evoluti in mammiferi. Senza dubbio esiste una notevole differenza fra queste due classi. I mammiferi sono animali di sangue caldo in grado di generare il proprio calore e di mantenerlo ad un livello stabile. danno alla luce le loro creature e le allattano. Hanno il corpo coperto di peli o di pelliccia. I rettili, diversamente, sono di sangue freddo. Depongono le uova, non allattano le loro creature e sono coperti di squave. Lo scrittore di scienza evolutiva Royas Lewin scrive la transizione dal primo mammifero che probabilmente accadde in uno o più lignaggi è ancora un mistero. Inoltre, quando improvvisamente sono apparsi i mammiferi, fra loro erano molto differenti. Animali così differenti come pippistrelli, cavalli, topi e balene sono tutti mammiferi e tutti sono apparsi nello stesso periodo geologico. Stabilire una relazione evolutiva fra loro è impossibile, anche facendo uso di tutta la nostra immaginazione. Haru Yaya scrisse L'idea dell'evoluzione umana e dell'uomo scimmia è un'altra invenzione da parte degli evoluzionisti. I reperti fossili indicano che in tutta la storia gli uomini sono stati uomini e le scimmie sono state scimmie. Non si è mai trovato una specie intermedia né un collegamento perduto. Uno dei metodi che hanno impiegato gli scienziati evoluzionisti per cercare di risolvere questo problema è stato creare loro stessi fossili che non hanno trovato. La prima di questa conveniente scoperta evoluzionista è stato l'uomo di Neandertal scoperto in Germania nel 1856 giusto in tempo per la divulgazione del libro Le origini della specie di Darwin. Gli evoluzionisti l'hanno inventato per tutti i media presentandolo come una specie primitiva però tutte le scoperte mostrano che non sono differenti da qualsiasi uomo robusto dei giorni odierni. Eric Trinkhaus un eminente paleontropologo dell'Università del Nuovo Messico scrisse Con fronti dettagliati dei resti di scheletri di Neandertal e scheletri di umani attuali hanno mostrato che non c'è nulla nell'anatomia di Neandertal che indichi abilità motoria di manipolazione intellettuale o linguistica inferiore a quella che hanno oggi gli umani. La successiva scoperta evoluzionista fu nel 1892 a Java, Indonesia e fu fatto da Eugen Dubois che guarda caso fu apprendista di Ernst Heckel conosciuto per aver portato a termine la frode evoluzionista degli embrioni e per cui fu condannato. Dubois scoprì la parte superiore di un cranio l'osso di una gamba un frammento di mandibola e nei giorni precedenti si iniziò la ricostruzione dell'uomo di Java nei seguenti dieci anni l'uomo di Java fu oggetto di oltre 80 libri e ricevette il nome scientifico di Homo erectus eretto in modo sospetto dagli esperti della materia i quali impedirono l'accesso a questi resti per oltre 30 anni alla fine Dubois fece pressione e permise l'accesso delle analisi al restante degli esperti e gli esperti scoprirono che i denti erano di età distinte e che le ossa erano un misto di ossa umane ed ossa di normali scimmie attuali fu pertanto dimostrato che l'uomo di Java non era altro che un'ulteriore invenzione evoluzionista è il successivo della lista dell'uomo di Pildown conosciuto per essere stata una delle più grandi frodi della storia della scienza soprattutto perché si credette veritiero per oltre 40 anni la storia iniziò nel 1912 con la scoperta dell'arresto di alcune ossa concretamente una parte di cranio un dente caduto una mandibola con dei denti la mandibola era simile a quella delle scimmie ed il dente e il cranio sembravano quelle di un uomo questo fu sufficiente per i media per affermare che si trattava del collegamento perduto che provava l'evoluzione dell'essere umano e per 40 anni si scrissero numerosi articoli scientifici sull'uomo di Pildown si fecero molteplici interpretazioni e disegni si scrissero più di 500 tesi di dottorato sul tema gli esperti acclamarono la scoperta nonostante iniziassero a sorgere molti dubbi sull'antichità e l'origine di questi resti alla fine il dentista Marzo stabilì che la mandibola di questo scheletro corrispondeva a quello di un orangotango il dente caduto ad una scimmia ed il cranio ad un uomo nel 1953 Joseph Heiner fece un'analisi completa rivelando al pubblico la frode il cranio apparteneva ad un uomo di 500 anni prima e la mandibola era di un orangotango morto recentemente i denti erano stati sistemati in una certa maniera e collocati nella mandibola e la superficie molare era stata riempita affinché apparisse simile a quella di un umano oltre a questo i pezzi erano stati dipinti con cromo di potassio per dar loro un'apparenza antica Sir Wilfred Lagos Clark che si trovava nell'equipe che scoprì questa frode disse sorpreso quello che segue l'evidenza di questi pezzi che erano stati fatti artificialmente saltavano all'occhio si vedeva chiaramente e non si poteva evitare di chiedere perché non fossero stati individuati prima a seguito della scoperta della frode l'uomo di Pildown fu rapidamente ritirato dal museo britannico dove era stato esposto per 40 anni come prova dell'evoluzione e l'uomo del Nebraska è la frode successiva della scienza evolutiva nel 1922 Henry Fairfield Osborne direttore del museo americano di storia naturale dichiarò di aver scoperto un fossile di dente molare del Nebraska datato nell'epoca del Pliocene 1,4 milioni di anni fa si racconta che queste persone osservavano sia le caratteristiche dell'uomo che quelle della scimmia ed in seguito le autorità appoggiarono la scoperta di Osborne partendo da questo unico dente disegnarono la ricostruzione sia della testa come quello dell'intero corpo dell'uomo del Nebraska tanto più che l'uomo del Nebraska fu disegnato accanto ad una femmina e ad un figlio come se fossero una famiglia completa in un contesto naturale tutto questo è stato sviluppato a partire da un solo dente gli scienziati evoluzionisti avevano posto tanta speranza in questa storia che quando fu chiamato l'investigatore William Bryan si opposero a questa conclusione precipitosa di essere costruita partendo da un solo dente fu criticato duramente dagli scienziati evoluzionisti tuttavia nel 1927 si scoprirono altre parti di quello scheletro che non appartenevano né ad un uomo né ad una scimmia si scoprì che appartenevano ad una specie estinta di un cinghiale americano chiamato Proxenox a seguito di questo nuovo fiasco tutti i disegni dell'uomo del Nebraska insieme alla sua famiglia immaginaria furono rimossi rapidamente dalla letteratura evoluzionista e il caso di Ota Benga non è meno vergognoso all'inizio del XX secolo gli scienziati evoluzionisti che credevano all'esistenza di specie intermedie fra le scimmie e l'uomo e di cui erano alla ricerca portarono alla cattura di Ota Benga nel 1904 Ota Benga era una persona di razza nera con moglie e figli fu inviato negli Stati Uniti incatenato e ingabbiato e fu esposto dagli scienziati evoluzionisti accanto a varie scimmie come specie intermedie molto simile all'uomo dopo due anni lo spostarono allo zoo del Bronx a New York e lo esibirono denominandolo antenato dell'uomo accanto a diversi scimpanzè gorilla ed orangotango il direttore evoluzionista dello zoo parlò molto del fatto che stava detenendo questa specie intermedia e trattava Ota Benga come fosse un animale incapace di sopportare il modo in cui lo trattavano Ota Benga si suicidò ulteriori scoperte come l'uomo di Pechino nel 1927 in Cina o Lucy nel 1974 in Etiopia finirono sempre per essere resti di scimmie e la scoperta in Kenya del bimbo Turkana nel 1984 risultò essere lo scheletro di un uomo normale attuale si vede pertanto che tutte le presunte scoperte di uomo scimmia non sono altro che frodi e falsificazioni Harun Yahya ha scritto la ricostruzione è un modello di disegno di un essere vivente da un solo osso o da un solo frammento che è stato dissotterrato i uomini scimmia che vediamo nei periodici nelle riviste nei film sono tutte ricostruzioni i fossili che presentano evidenze dell'evoluzione umana in realtà sono frodi per le persone che sono molto sensibili alle informazioni visive queste ricostruzioni si adattano molto bene al proposito degli evoluzionisti per convincere la gente che queste creature ricostruite sono realmente esistite nel passato tutte queste evidenze paleontologiche biologiche ed anatomiche dimostrano che la teoria dell'evoluzione non è altro che un inganno basato su scoperte fraudolente ricostruzioni immaginarie e disegni fantasiosi tuttavia questa teoria pseudoscientifica viene insegnata nelle università di tutto il mondo come se fosse un fatto comprovato mentre non è altro che una fantasia disegnata per farci credere che siamo un incidente della natura e di un prodotto casuale la realtà è che tanto le evidenze scientifiche che la logica indicano che il nostro mondo è stato creato e disegnato da una mente intelligente se siete nuovi del cavanale iscrivetevi che continueremo a parlare di questi temi e come sempre grazie a tutti di essere stati qui e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti e al prossimo video grazie a tutti